Volete fare un affare amici? Ascoltate bene! Low cost abbigliamento fa fuori tutto il rimanente a 10 euro. Maglieria uomo tutto a 10 euro. Camice, pantaloni, jeans, magliettine tutto a 10 euro. Esageriamo? Giubbotti e giacche uomo che venivano 80-90 euro anche questi a soli 10 euro. E così per la donna? Cappotti, piumini colorati, maglie, maglioni, jeans donna assortiti tutto questo a 10 euro. Date Mireta, venite a trovarci ma se volete fare un affare dovete sbrigarvi, le taglie sono limitate. Low cost a Predani e da Strada 28, Sassari.